Nominati i vincitori del premio giornalistico Estra per lo sport, raccontare le buone notizie. Inclusione, integrazione, tenacia, solidarietà sono alcuni tra i più emblematici temi trattati. Premiati sei giornalisti su 140 partecipanti, con tre menzioni d'onore e due premi alla carriera Gianni Mura e Alessandra De Stefano. Al Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino, evento sostenuto da Estra, sono stati premiati anche Arrigo Sacchi e Gianluigi Buffon.